Musica Meeting di Rimini, il governatore di Banca Italia Panetta, riduzione del debito tema cruciale, serve potenziare crescita e produttività dal calo demografico rischi per pensioni e sistema sanitario. Eurostat, Italia fa analino di coda nell'UE per tasso di occupazione dei neodiplomati. Nel 2023 solo il 67,5% dei giovani ha trovato impiego a fronte della media europea dell'83,5%. Medio Oriente, trattative a rischio. Secondo fonti USA e Israeliane, l'accordo tra Tel Aviv e Hamas è sull'orlo del fallimento. Nel Mar Rosso i ribelli Uti colpiscono un mercantile a largo di Odeida. Russia continua l'offensiva a Ucraina. Nella notte abbattuti 11 droni lanciati su Mosca a raffica di attacchi anche nella regione di Briansk e nel Belgorod. Meteo torna all'anticiclone africano. Da domani l'alta pressione porterà tempo stabile e temperature in aumento su tutte le regioni, con valori fino a 37 gradi nel weekend. Buonasera. In Italia il problema cruciale è la riduzione del debito pubblico. Questo è uno dei concetti chiave espressi oggi dal governatore di Banca Italia Fabio Panetta nel corso del suo intervento al meeting di Rimini. Un debito elevato, ha spiegato, rende più onerosi i finanziamenti alle imprese, frenandone la competitività e l'incentivo a investire e sottrae risorse alle misure in favore di sviluppo. Una gestione prudente dei conti pubblici, un deciso incremento di crescita e produttività, gli elementi della ricetta di Panetta per la riduzione del debito. Altro gravoso problema per il Paese è, secondo il numero uno della Banca d'Italia, il calo demografico, una dinamica che rischia di avere effetti negativi su pensioni e sistema sanitario. Effetti che possono essere contrastati, rafforzando il capitale umano, aumentando l'occupazione di giovani e donne e favorendo un afflusso di lavoratori stranieri regolari. Panetta ha poi rivolto lo sguardo all'Europa. Per tenere il passo con il progresso a livello mondiale, l'UE deve avviare riforme profonde e investimenti ingenti. Ha spiegato tra questi la realizzazione di una capacità fiscale comune, di un ambiente normativo favorevole all'attività imprenditoriale, che possa attrarre investimenti privati e incentivare l'innovazione e il potenziamento dei legami tra il mondo accademico e il sistema produttivo. Cambiamo argomento. L'Italia ha il più basso tasso di occupazione di neodiplomati nell'Unione Europea e quanto emerge dagli ultimi dati Eurostat, secondo cui nel 2023 solo il 67,5% dei giovani tra i 20 e i 34 anni ha trovato impiego a fronte dell'87,5% della media europea. Affare da apripista tra le nazioni virtuose, Malta, che registra un tasso di occupazione del 95,8%, seguita da Paesi Bassi e Germania. In fondo alla classifica, ma meglio del nostro paese, invece Romania e Grecia. Ora alcuni aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente. Cala l'ottimismo sulle trattative per un cessato il fuoco a Gaza. Secondo fonti israeliane e statunitensi, l'accordo tra Tel Aviv e Hamas è sull'orlo del fallimento, gettando così ombre sulla ripresa dei negoziati attesi domani al Cairo. Intanto, proprio nel giorno in cui il Parlamento di Teheran ha approvato il governo Pejeshkian, l'Iran torna a minacciare un attacco coordinato terra-aria contro lo Stato ebraico in risposta all'uccisione del leader di Hamas, Anieh. Situazione calda anche nel Mar Rosso. Stamane l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha reso noto che i ribelli uti hanno colpito una nave mercantile a largo della città portuale di Odeida. Ancora conflitti. Ci spostiamo in Russia, presa ad assalto la scorsa notte da una pioggia di droni ucraini. Tra questi, ben 11 diretti a Mosca e oltre 30 nell'oblast di Bryansk e nel Belgorod, ma prontamente abbattuti dalle forze russe. Si tratta di uno dei più grandi tentativi di attacco mai effettuati contro la capitale, ha annunciato il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. Un attacco che accresce le tensioni. A tal proposito, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Medvedev, ha oggi tuonato non ci sarà nessun negoziato fino alla completa sconfitta di Kiev. Dura reazione della Cina al nuovo testo della Commissione europea sui dazi compensativi provvisori imposti alle importazioni di auto elettriche cinesi. Il Ministero del Commercio del Dragone ritiene che le conclusioni dell'indagine UE siano incompatibili con le regole della World Trade Organization, mentre l'organizzazione dei produttori di veicoli del Dragone ha affermato di opporsi con fermezza alle misure europee, citando rischi enormi e incertezza sulle operazioni e sugli investimenti delle sue aziende nell'Unione Europea. Ora la cronaca con la tragedia di Porticello, dove all'alba di lunedì il veliero Bayesian è affondato a causa di una tromba d'aria nel mare di Palermo. Nel pomeriggio sono stati recuperati dai sommozzatori i quattro dei sei dispersi ritrovati all'interno dello scafo a 50 metri di profondità. Intanto continuano le indagini della Procura di termini merese anche attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, secondo gli ultimi rilievi, tra le ipotesi dell'inabissamento del natante sembra rafforzarsi quella di un errore umano. Cambiamo argomento e veniamo ai dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Quindi sono oltre mille i migranti morti o dichiarati dispersi nel Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno, circa 13.700 invece nello stesso periodo i profughi intercettati in mare e riportati in Libia, di cui l'89% uomini. L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia dopo ferragosto è terminata. Già nella giornata di oggi un vortice di alta pressione si è spostato sulla penisola portando tempo stabile e soleggiato con temperature in lieve rialzo su gran parte delle regioni. Ma a partire da domani il caldo sarà in aumento fino a raggiungere nuovamente picchi tra i 35 e i 37 gradi nel weekend. Ma passiamo ora ad alcune notizie che interessano il comparto dei trasporti e della logistica. è da oggi operativo il regolamento IFTI, la normativa europea che punta a favorire la digitalizzazione del trasporto merci nell'Unione. Vengono stabiliti i requisiti per la trasmissione e la condivisione di dati in formato elettronico tra le autorità pubbliche competenti e gli operatori del trasporto merci su strada, ferrovia, vie di navigazione interna e via aerea. Obiettivo semplificare e velocizzare i processi migliorando l'efficienza e la trasparenza delle operazioni di trasporto e promuovendo un trattamento delle informazioni più sicuro e interoperabile. Ancora a trasporti, RFI ha annunciato il completamento dei lavori di due nuovi tratti della linea ferroviaria Milano-Venezia, si tratta della Verona-Venezia e della Vicenza-Schio-Treviso oggi riaperte al traffico. La messa in servizio delle due varianti di tracciato per un investimento economico di RFI pari a 114 milioni costituisce una tappa fondamentale nei lavori della tratta ad alta velocità Verona-Bivio-Vicenza. Si terrà dal 28 al 3 ottobre prossimi l'edizione autunnale del programma Most Italy più il corso formativo organizzato dalle Scuole Europea Intermodal Transport e rivolto a studenti e professionisti del settore che avrà luogo lungo una delle principali autostrade del mare d'Europa tra i porti di Civitavecchia, Barcellona e Perpignan. Anche questa volta il viaggio formativo si terrà a bordo di una delle cruise RO-PAX della flotta Grimaldi Lines e Alice sarà partner. Questa sera a partire dalle 21 sarà possibile ripercorrere le tappe principali della sessione di maggio del corso nello speciale di Alice Channel interamente dedicato. Lasciandovi con una breve anticipazione noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata. Con il Most cerchiamo veramente di portare un'innovazione nel settore e da tanti anni visto i buoni risultati ne siamo veramente soddisfatti. La possibilità di fargli fare dei tirocini pratici a bordo di nave da Civitavecchia verso Barcellona è la dimostrazione come ci sia tanta voglia e fame di professionalità anche non necessariamente legate a quelle canoniche dell'attività universitaria. Facciamo di attività che non si può fare in aula perché non ha la possibilità di avere questi mezzo a disposizione e questa è la singolarità della scuola. Un partecipante in particolare ha detto che imparare sul campo ha reso il mare un'aula senza confini e questo naturalmente lo porterò nel cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.